benvenuti a questa lezione elementare di rigging voglio farvi vedere come partendo completamente da zero si può riuscire a importare un avatar rigato su Second Life oppure come in questo caso OpenSim il procedimento è esattamente lo stesso abbiamo bisogno di Blender quindi andiamo sulla pagina di Blender dove è appena uscita il 10 dicembre 2012 la versione 2.65 qui ci scarichiamo la versione preferenziale è quella zip sono 47 MB questa versione la scarichiamo e facciamo in modo tale lo vedete proprio in tempo reale eccolo qua, sono 47 MB eccolo lì quando aprite questo zip vedete che dentro c'è appunto una cartella Blender 2.65 release e ho preso la versione a 32 bit prendo quella cartella dentro c'è un eseguibile quindi quando lo spacchettate lanciate questo Blender.exe ed è esattamente quello che faccio con questo tasto quindi cliccando su questo anzi ripartiamo da zero cliccando su questo arriviamo su Blender 2.65 e qui siamo adesso l'ho già leggermente modificato perché il default gli ho tolto il cubo ma voi in realtà vi viene appunto questo cubetto l'altra cosa dovete procurarvi l'Avatar Workbench l'Avatar Workbench che si trova sotto il blog macchinimatrix.org avatar-workbench e qui abbiamo la versione di avatar-workbench lo vedete qua un po' se riusciamo a evidenziarlo eccolo qua e in particolare vedete che abbiamo per tutte le varie versioni ma anche per la 2.63 che si chiama appunto avatar-workbench 2.63.blend questo lo scaricate sono 7 MB quindi un pochetto più piccolo in pochi due secondi arriva e un punto Blender cosa vuol dire che se è un punto Blender vuol dire che voi potete andare sul vostro Blender fare file senza avere nessun plugin di nessun tipo ordine e grado e aprite il vostro avatar-workbench che vi siete scaricati da qualche parte quando lo aprite vedete che dentro ci sono varie cose ma per semplicità noi vedremo che ci sono uno questo pezzo che è il lower body poi due che è il pezzo che si chiama upper body quindi la parte inferiore del corpo e la parte superiore del corpo e un pezzo tre che è la testa ma in realtà vedete che c'è anche lo scheletro l'armatura che però noi per questo video non utilizziamo ci concentriamo soltanto nel cercare di importare questa questa mesh questa mesh dentro second life o open sim quindi per farlo beh lo vediamo un attimino di fronte poi se rizziniamo col tasto destro anzi facciamo così vi faccio vedere il display delle cose che facciamo quindi start display ecco così vedete i tastini che premo quindi seleziona col tasto destro magari se vediamo anche no non dovrebbe essere già posto quindi tasto destro abbiamo selezionato questo poi facciamo shift tasto destro selezioniamo la parte di sopra poi shift tasto destro la parte ancora di sopra e poi facciamo un bellissimo ctrl j per unificare questa mesh che a questo punto nell'insieme si chiamerà head se volessimo cambiargli nome basta che andiamo qui dove c'è il nostro avatar oppure anche dovrebbe esserci anche qua probabilmente basta cambiargli ma qui diciamo avatar rigged vabbè comunque la cosa importante è che questo adesso si continua a chiamarsi head che c'ha tutte le ossa al posto giusto che c'è anche tutta la coloritura delle ossa cioè di come questo oggetto si possa muovere all'interno di poi second life quando verrà mosso quindi semplicemente lo selezioniamo tasto destro e poi ci limitiamo a fare file export con l'ADA e nel file export con l'ADA andiamo a prendere il preset relativo al second life rigged vedete che preimposta già automaticamente una serie di cose e lo salviamo c due punti lo chiamiamo avatar rigged due perché mi sa che ne ho già salvato un altro prima salviamo lui l'ha salvato quindi a questo punto possiamo andare nel nostro mondo virtuale facciamo avatar upload mesh model questo è Firestorm equivalenti in altre parti sotto C prendiamo l'avatar rigged due questo eccoci qua allora se è andato tutto bene vedete che l'avatar che è fatto in questa classica forma T ci avrà gli skin weights che è importante quindi ha capito che siamo tra l'altro ecco qui c'è un'altra cosa carina no non funziona ah forse i joints se abilitiamo i joints non è le versioni dovrebbe far vedere non lo fa vedere peccato magari lo fa vedere quando adesso questa cosa qua è puramente estetica non fa niente di particolare solo per farvi capire che ha preso gli skin weights però la cosa fondamentale è questo include skin weights e include joint position vediamo se adesso funziona quello che volevo farvi vedere prima no perché in alcune versioni forse su second life quando camminate vi fa vedere anche l'avatar che cammina qua nella preview a meno che bisogna fare avatar shape qua neanche quindi sarà su second life allora una volta avete fatto questo questo lo chiamate avatar rigged 2 calculate weights and fees adesso su second life vi dovrebbe dare 25 linden dollari con un peso di 16 16 prime qui su open sim vedete tutto 0 ma fate l'upload e l'upload vi da praticamente un nuovo oggetto recent items che è questo avatar rigged 2 che abbiamo visto allora questo avatar lo possiamo attacciare all'avatar center e quindi a questo punto vedete che mi ha cambiato qualcosa e mi è venuto ecco mi ha ricoperto con l'avatar di default che oltretutto è femminile il mio avatar principale questo effetto il fatto che il mio avatar principale sporga un po' dalla mesh è noto e per ovviare questo inconveniente occorre crearsi un alpha layer allora se non ce l'avete già un alpha layer l'alpha layer serve per far scomparire delle parti del corpo ne creiamo uno nuovo quindi facciamo create body part no clothes e facciamo new alpha allora avendo creato un nuovo alpha questo qui quindi alpha per mesh alpha per mesh lo indossiamo questo layer che vedete che a questo punto non fa nulla perché è ancora da impostare vado su appearance edit outfit oppure quello che è nel vostro viewer ok editate l'apparenza andate a vedere le cose che avete indossate quindi alfa per mesh andate a editarle e poi qua nelle vari punti di questa alfa mask cercate la texture trasparente magari in all items e poi questa la piazzate praticamente in tutto il layer vedete vedete che l'effetto è quello di far sparire di far sparire la mia shape principale c'è un save as eccolo e quindi abbiamo adesso la nostra la nostra eccola qua che come vedete è rigata bene nel senso che quando cammino oppure quando faccio se mi ricordo ctrl shift s no sarà ctrl alt s ecco ecco praticamente il nostro avatar riesce a seguire abbastanza fedelmente e quindi si muove e fa tutto ciò che deve quindi si fa le emozioni e tutto e questo funziona e vabbè adesso qui in realtà bisogna poi avere anche gli occhi e altre cose le texture però la parte più complicata che è quella che vi ho fatto vedere stranamente non riesce a farla quasi nessuno o comunque molti hanno difficoltà ok quindi questo è diciamo il rigging livello 0 cioè quello di prendere un modello già fatto come vedete questo qui è un modello femminile in questo caso ma se trovate in giro e poi lo spiego nell'articolo anche nei modelli maschili oppure addirittura è possibile prendersi proprio il vostro modello originale di second life c'è una modalità di esportarlo su blender e questa tecnica si usa sia per le mesh e in questo caso dovete usare questo alpha layer che anche per i vestiti quindi anche solo per una camicia o per il paio di pantaloni e via discorrendo ora io credo che questo sia tutto per questa lezioncina ci sentiamo la prossima volta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti